ciao ragazzi un saluto a tutti da parte mia oggi vi presento un telefono che ormai è stato stra-presentato parliamo di samsung galaxy s 9 in questo caso parliamo della variante s 9 standard con display da 5.8 pollici ho deciso di non testare il samsung s 9 plus poi vi spiegherò per quale motivo perché amo i telefoni non troppo grandi che stanno bene all'interno delle tasche ma questo video iniziale è solamente per fare un unboxing del nostro samsung s 9 allora immediatamente apriamo la scatola vi faccio vedere dentro cosa c'è ecco qua si apre in questo modo qua non ha un sistema magnetico ma si apre in modo molto semplice vi faccio vedere eccolo avanti abbiamo la nostra scatola che all'interno manuale di istruzione rapido eccolo qua lo vedete abbiamo la diciamo abbiamo la chiavetta per togliere la nano sim perché questo telefono dual sim nano sim abbiamo il nostro smartphone samsung s 9 eccolo qua ve lo faccio vedere misura standard 5.8 pollici sinceramente quello che preferisco che molto sottile sta molto bene in tasca in particolare quando ci spostiamo durante i viaggi non ci dobbiamo portare appresso una mattonella nella parte posteriore abbiamo metto le impronte fotocamera flash led nella parte sottostante alto pallanti stereo ingresso per cuffia e ingresso per la ricarica e per il collegamento a pc usb sì andiamo a vedere all'interno della scatola ancora cosa c'è troviamo il classico caricabatterie rapido di samsung quello che abbiamo visto un pochettino per tutti i modelli ingresso usb ma la cosa molto comoda sono questi adattatori ve li faccio vedere eccoli qua troviamo un adattatore usb sì che possiamo utilizzare anche per altri device usb normale usb sì micro usb quindi possiamo anche utilizzare i cavetti ovviamente devono essere certificati per la ricarica ad alta velocità direttamente sul nostro diciamo samsung s 9 all'interno di questa scatola troviamo passiamo subito dal cavetto cavetto ovviamente usb c usb classico abbiamo il kit di gommini per le nostre cuffie che ci sono in dotazione della akg eccole qua ve le faccio vedere veramente molto belle sono state studiate queste cuffie prettamente per s9 per sfruttare il sistema audio dolby atmos quindi con la nostro con il nostro unboxing abbiamo terminato procediamo nella nostra recensione grazie a tutti